Taglio del nastro per il centro di raccolta intercomunale a servizio dei comuni di Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. La struttura che si trova in località Poggi Grassi nel comune di Foiano è un'area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini residenti nei tre comuni a retini potranno effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. Una soluzione pratiche veloce che permetterà a tutti i residenti nei tre comuni di provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelli voluminosi ed ingombranti contribuendo così ad una gestione virtuosa. Il nuovo centro di raccolta si estende su un'area di poco meno di 2.500 metri quadrati composta da un box di guardiana, dagli spazi occupati da cassoni scarrabili e da vasche interrate adibiti alla raccolta di materiali e da una tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La struttura è dotata anche di un sistema elettronico di pesatura dei rifiuti conferiti. L'investimento per la realizzazione del centro di raccolta è stato di circa 250.000 euro. La struttura sarà aperta ogni lunedì, giovedì e domenica dalle 8 alle 13, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.